E ora veniamo a uno dei temi centrali della puntata di Obiettivo Agricoltura al comparto dell'apicoltura e del miele che è già stato duramente provato negli anni scorsi dai cambiamenti climatici, ora ovviamente appesantito dall'emergenza sanitaria. Sentiamo qual è il quadro della situazione attuale. L'annata produttiva del miele 2020 è stata condizionata dall'emergenza coronavirus, lo spiega Luca Lais, tecnico apistico di Aspromiele. Tra le cose che segnala anche la piaga dei furti di alveari. In tutto il Piemonte quest'anno i furti significativi sono stati una quindicina. Lais informa su come riconoscere il miele made in Piemonte leggendo l'etichetta. Altre informazioni che fornisce riguardano i mieli prodotti in Piemonte ed il prezzo medio del miele piemontese che in media varia da 12 a 15 euro per chilogrammo. Che cosa è successo in questa annata caratterizzata dall'emergenza coronavirus? L'annata 2020 diciamo che si caratterizza dal punto di vista climatico con un aspetto abbastanza favorevole per le api e il coronavirus in parte ha favorito anche le api per l'assenza di tutta una serie di attività che avrebbero potuto contribuire all'inquinamento ambientale. Purtroppo si sono verificate però delle situazioni in cui ci sono stati degli avvenenamenti molto gravi dovuti a trattamenti fatti su alcune colture a livello agricolo che hanno indirettamente o direttamente anche colpito le api. Per quanto riguarda le produzioni noi in genere facciamo una sorta di monitoraggio attraverso un progetto che Aspromiele porta avanti da quest'anno che è quello del monitoraggio attraverso i pesi degli alveari che si chiama B-REP e in questa indicazione risulta che nel periodo primaverile i raccolti sono stati minimali e quindi sia il miele di tarasso che il millefiori primaverile è stato abbastanza scarso. Mentre invece per quanto riguarda la caccia i dati produttivi che abbiamo attualmente a livello regionale indicano circa una media di mezzo melario che vuol dire tra i 5 e i 7 kg di media considerando che poi ci sono state zone dove è andato un pochettino meglio in altre dove invece purtroppo è andata peggio. Questo inizio campagna era stato caratterizzato da una serie di furti come è andata? Sì purtroppo questa è una piaga che è presente in apicoltura come Aspromiele abbiamo un servizio che raccoglie tutte le denunce di furti che vengono fatti tutti gli anni le zone in cui si sono verificati coinvolgiamo il comando dei carabinieri per monitorarlo e purtroppo quest'anno abbiamo già avuto almeno 15 segnalazioni di furti e speriamo che un'indagine che è iniziata proprio dal comando centrale dei carabinieri porti presto a dei risultati per sgominare questa per debellare questa piaga. Come fanno i consumatori a riconoscere il miele medi in Piemonte? Questo è molto importante perché fortunatamente in apicoltura è presente una legge per la quale è obbligatorio indicare in etichetta l'origine del miele quindi intanto viene individuato attraverso la produzione italiana e sull'etichetta bisogna cercare appunto prodotto italiano e poi il più possibile consigliamo di rivolgersi a picoltori di zona che garantiscono una maggior qualità e un chilometro sostanzialmente zero del prodotto. Quali sono i principali mieli prodotti in Piemonte? Il Piemonte si caratterizza proprio per avere una conformazione geografica che permette numerose tipologie di mieli anche monoflorali. Se le vogliamo elencare in ordine cronologico in genere i primi prodotti primaverili sono appunto potrebbero essere un miele di tarassaco in purezza oppure un millefiori primaverile al quale segue in genere poi il miele di acacia a volte ci sono delle produzioni di miele di ailanto per poi andare verso il periodo di giugno dove ci sono produzioni di miele di castagno, di tiglio monoflora di montagna tipo rododendro oppure millefiori di montagna o di alta montagna per poi avere delle produzioni di melata verso luglio, luglio agosto nelle zone in cui si riesce ancora a fare. Queste sono le principali tipologie ma poi diciamo così nel piccolo per esempio quest'anno abbiamo anche verificato la presenza di melati di nocciolo che non sempre sono alla conoscenza di tutti. Il prezzo è veramente variabile e dipende anche molto dalla capacità imprenditoriale dei singoli apicoltori però in genere un prezzo al chilo che va tra i 12 e i 15 euro potrebbe essere un prezzo di riferimento. Aspromiele è un'associazione regionale che ormai è dal 1985 il lavoro sul territorio, attualmente ha 3.400 soci e rappresenta circa il 70% degli alveari presenti in Piemonte. È costituita da 14 tecnici che operano su tutto il territorio e abbiamo numerosi progetti che sviluppiamo tutti gli anni. In modo particolare in questa emergenza del coronavirus abbiamo sviluppato tutta una parte che riguarda la formazione online che non esisteva in precedenza ma che ci ha permesso di arrivare comunque agli apicoltori che volevano formarsi attraverso numerosi corsi specifici per il settore. La seconda intervista che vi proponiamo è a due apicoltori titolari delle aziende Guelfo Gallino di Castiglione Torinese. Domenico Guelfo e Antonella Gallino spiegano come hanno reagito all'emergenza Covid-19 migliorando sia le vendite al dettaglio sia le vendite online. Abbiamo questa azienda a Castiglione da circa una decina d'anni, abbiamo 150 alveari, è un'azienda che fa nomadismo quindi dalle prime fritture di aprile spostiamo le api continuamente ogni 25 giorni, 20 giorni, 25 così dipende. Gli alveari invernali li abbiamo diciamo nel non ferrato, la maggior parte qui vicino nei dintorni di Castiglione e anche nell'Astigiano e poi dopo seguiamo le fioriture con i fiori della frutta, il tarassaco, l'acacia, il castagno, millefiori e melata. Quest'anno l'annata sta andando abbastanza bene e diciamo che le piogge che ci sono state non sono state troppo invasive come l'anno scorso che hanno compromesso dei raccolti importanti come quello dell'acacia, quest'anno diciamo che un po' si è fatto, non è proprio un'annata ottimale ma diciamo che sta andando. Noi produciamo del miele fondamentalmente monofloreale appunto facendo nomadismo, le nostre tipologie di mieli partono dal miele di acacia che è appunto il primo miele che normalmente si produce nella stagione, poi del millefiori sia di collina e anche millefiori di alta montagna, quindi flora alpina e poi facciamo miele di castagno e miele di tiglio e la melata come ultimo miele. Noi abbiamo anche un punto vendita nella nostra dove abbiamo l'azienda e quindi comunque appunto riforniamo un po' diciamo al dettaglio anche dei negozi insomma comunque cerchiamo di produrre prevalentemente miele ecco poi altri tipi insomma poi dipende dalle annate del polline o comunque della propoli ma fondamentalmente facciamo dei mieli monofloreali. Ogni anno con la nostra associazione Aspromiele partecipiamo ad un concorso regionale appunto sui vari mieli che si producono nell'annata e due anni fa abbiamo presentato alcuni campioni di mieli in particolare un miele di castagno e questo miele è risultato come primo miele vincitore e anche come primo miele assoluto quindi comunque è stato per noi insomma un motivo di grande soddisfazione anche l'anno scorso abbiamo avuto dei riconoscimenti. L'emergenza coronavirus come ha cambiato la vendita? In realtà paradossalmente la migliorata nel senso che in questo periodo noi nel nostro piccolo abbiamo potuto verificare che abbiamo aumentato le vendite le vendite al dettaglio e anche vendite online anche perché probabilmente i consumatori sono un po' più attenti anche alla qualità del prodotto magari vanno alla ricerca anche dei prodotti a chilometro zero e comunque cercano di rifornirsi con prodotti locali e per quanto riguarda il miele con il miele italiano insomma e quindi questo credo che nella situazione negativa possa essere uno stimolo no perché insomma forse i prodotti insomma i consumatori cominciano a essere un po' più un po' più sensibili insomma un po' più attenti anche a quello che consumano e anche a quello che acquistano quello che comprano